Firenze negli ultimi anni si è classificata sempre nei primi posti delle classifiche nazionali come Smart City. Tu come cittadino ti rendi conto che ci sono stati dei cambiamenti in questo senso negli ultimi anni nella tua città? L'incremento smisurato delle biciclette a noleggio, quello è senza onda di rubro, e anche le macchine delle proprie, delle share to go, oppure altre case che forniscono a questo servizio, sono cresciute molto. Noi abbiamo investito tanto sui trasporti, quindi le politiche attrattive sul trasporto pubblico, facendo in 4 anni quello che in città non si faceva da 40 anni. Quindi abbiamo costruito delle linee tramviarie di superficie moderne che stanno spostando milioni di residenti e non residenti al trasporto pubblico locale. In particolare il bike sharing abbiamo 4.000 biciclette che sono usate fino a 12.000 singoli utenti al giorno e che stanno andando molto bene. Magari se una sera voglio passare una serata in centro e in macchina non ci posso venire, sto fuori, vengo in autobus o non lieggio una macchina direttamente, prendo una bici se sono a Firenze, se sono fuori prendo una macchina fino alla zona blu. Ma anche i car sharing che sono dei car sharing due totalmente elettrici e altri due invece a trazione tradizionale. Io ti dico che uso car sharing ed è molto comodo diciamo, non magari usarla sempre però è molto comodo. Firenze mi sembra, se ne ragioneva prima, noi che la si stia un po' adatta, evolvendo però e ci vuole generazioni. E poi c'è un filone ormai maturo del Comune di Firenze dei servizi digitali che vengono offerti al cittadino. Li abbiamo ampliati tanto, arriveremo alla fine di questo mandato, quindi nel 2019, a far sì che tutti i servizi dei cittadini siano online e tutti i servizi, ad esempio di pagamento, siano online. Firenze secondo me è una città abbastanza smart, è accessibile non solo per i turisti ma anche per i cittadini. Quindi non solo per i trasporti, come ho detto, per qualsiasi tipo di servizio. Sinceramente la tecnologia non la vedo molto ancora all'interno, cioè magari non so, ci potrebbero essere anche applicazioni, eccetera, ma non sono molto pubblicizzate. Mi piace molto anche il fatto che Firenze sia la prima città d'Italia a volume zero che lavora sulla rigenerazione urbana, perciò una smart city da un punto di vista urbanistico. non costruiamo nuovi immobili ma rigeneriamo quelli che già ci sono, individuando nuove funzioni e attraendo nuovi investitori. Io già vivo in Firenze nel 2006, Firenze è cambiato. In meglio? Sì più o meno, sì più o meno da prima. Cos'è che ti ha colpito di più di questo cambiamento? Tante cose. Anche Trump, anche il Wifi in giardino. Firenze è più bello da prima. Firenze vive, Firenze vive, Firenze vive.